A Palermo le politiche, la convention con Bersani, ha partecipato anche Giuseppe Arnone. La politica può arricchire economicamente, e io non sono tra questi, e in altri casi arricchirti moralmente, farti commuovere. Bene, ieri per me è stata una giornata di commozione, è stata una giornata bellissima. L'ho aperta mandando l'immagine del manifesto che vedete ai collaboratori di Bersani a Roma, ed essendo richiamato con grandi complimenti. Avevano gradito molto l'idea di questo manifesto. Poi ho portato il manifesto con i miei collaboratori a Palermo, all'iniziativa di Bersani, e anche da Bersani ho avuto ampi sorrisi. Vi è pure una scena ripresa e immortalata da fotografi e televisioni, io col manifesto in mano, Bersani che mi tiene una mano, e il gesto di vittoria fatto assieme dentro il teatro. Ed è stato pure bellissimo l'altro momento, quando io sono entrato in sala innanzi a molte centinaia di persone, si è creato un contesto dove sono stato applaudito da centinaia di persone che mi dicevano bravo, bravo, stiamo vincendo la questione morale, il partito pulito, bravo, bellissimo questo manifesto. Abbiamo anche molte immagini che io spero che la gente possa vedere per comprendere quanto importante e ricco è il partito democratico e la sinistra nella quale milita Giuseppe Arnone. Poi ieri sera sono stato anche ad una cena bellissima con GB ottimi, la cena di autofinanziamento, perché noi siamo la gente della politica pulita che si autofinanzia, la cena di autofinanziamento della lista Crocetta e del senatore Beppe Lumia al Senato. Anche lì è stato un successo per i nostri valori e io ovviamente sarò impegnato a far votare per la lista Crocetta al Senato, avete visto le mie immagini con Crocetta, le rivedrete ampiamente, e la lista di Bersani con Bersani capolista alla Camera. Quando una persona ti fa quei sorrisi e ti stringe la mano con quel calore non puoi che vederla bene come Presidente del Consiglio. Grazie a tutti.